Quindi metà bocca di Camilla, poi l'altra metà frite. Mi ha l'appetitù. C'è il card. In questo caso ho deciso di utilizzare il Becket Blush, che è un blush che ha anche una parte chiara, quindi va a fare proprio una sfumatura. Quindi lo vado a prendere col pennello piatto e mi crea proprio una sorta di luminosità e di sfumatura di colore. Allora, adesso basta, adesso tocca a te. Grazie. 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 Grazie.